Allora Fabrizio ci dicono che potrebbe essere possibile una tua comparsa all'Isola dei Famosi, sono voci veritiere? Mi hanno chiamato, c'è questa questione che il mio giornale online, Corona Magazine, ha lanciato del tradimento di Fogli. Lui ha smentito, lei ha smentito, noi pubblichiamo la verità, abbiamo le prove in mano perché abbiamo le fotografie, abbiamo delle interviste e quindi molto probabilmente sarà possibile questo confronto. Cerchiamo di evitarlo perché io ormai non mi occupo più di questo lavoro ma lo faccio a fare dei miei collaboratori, però alla fine siamo sempre su tutte quante le notizie. Ti stai lanciando in moltissime iniziative, in campi anche molto differenti, cosa ne pensi però del fatto che ci siano comunque delle voci che vorrebbero riportarti dentro, insomma, vorrebbero toglierti la casa? Ma diciamo che io faccio il mio lavoro, mi impegno, cerco di fare le cose fatte bene, ma poi alla fine c'è sempre qualcuno che mi rompe le scatole e cerca di metterle in bastone tra le ruote come è successo in tutti questi anni, però insomma, poi alla fine trovo sempre il modo di uscirne. Continuo a rimanere positivo qui? Sempre positivo. Ascolta Fabrizio, per quanto riguarda invece i rapporti, diciamo, più intimi, più familiari, abbiamo visto il rapporto meraviglioso con tuo figlio, alla presentazione del tuo libro e si dice che tu ti stia riavvicinando anche a tua madre. Sto cambiando tutta una serie di cose, stiamo facendo altre cose, nel senso che mi sono riavvicinato alla famiglia, sto cercando un lavoro, un pochettino più stabile, lavoro su progetti importanti, lavoro su nuovi talenti e lui è uno di quelli su cui sto puntando perché credo molto che adesso la musica sia il futuro di tutti quanti i business e quindi cerco di rimettere la mia vita a posto, partendo dai giovani, i giovani mi danno energia positiva. Io ti faccio bere l'oro, capisci? Io ti faccio bere l'oro. se non c'è buoni, non c'è buoni. Oh, fratello. Non so che... dov'è il posto qua? Ragazzi. Te lo chiamo subito a tiri. apri il lilbo stasera è arrivata la proprietaria di oro di parco la madonnazza stefino prendi posto che stappiamo si a 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